Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sta per concludere il settennato della sua Presidenza, ha voluto ancora una volta dare un'onorificenza a dei ragazzi che si sono particolarmente distinti per vari motivi. Vorrei dire che tra i meriti di questo Presidente non c'è soltanto l'equilibrio, la compostezza, la sensibilità, tutte doti che noi abbiamo ammirato, ma c'è anche la finezza, ormai da tempo consolidata, di riconoscere che soprattutto tra i ragazzi e tra i giovani ci sono delle eccellenze che tante volte noi sorvogliamo o in qualche maniera non vediamo perché siamo disturbati da altre cose, siamo abituati a vedere i cavalieri del lavoro, siamo abituati a vedere l'importanza di chi ha vinto i campionati, di chi ha vinto tante cose, di chi ha vinto le Olimpiadi. Insomma, in qualche maniera siamo abituati a riconoscere che c'è un successo che ha il profumo del clamore. Sergio Mattarella nella sua squisita sensibilità da tempo sta premiando dei giovani, dei ragazzi, non per il clamore perché vengono, fanno o vincono dei concorsi, perché si distinguono a livello internazionale, ma sta dando dei riconoscimenti per l'umanità, per la profondità, per il senso di solidarietà che questi ragazzi riescono ad esprimere nonostante la freschezza della loro anagrafe. E credetemi, non si tratta soltanto di un riconoscimento per dire ci sono dei ragazzi bravi. A me sembra che sia un segnale politico fortissimo, il segnale politico da parte di adulti che dicono che l'investimento noi lo dobbiamo fare sui giovani, perché purtroppo a parole tutti siamo qua a parlare bene dei giovani, che i giovani meritano fiducia, che ci sono tanti bravi giovani, ma poi di fatto le responsabilità, e quando penso alle responsabilità penso anche ai vantaggi delle responsabilità, finiscono per rimanere quasi sempre tra le mani dei grandi, degli adulti e qualche volta anche dei vecchi, anzi spesso anche dei vecchi, perché sostanzialmente la nostra società è una società, passatemi il termine, geriatrica nella politica, nei compiti di grande responsabilità e ve lo dice uno che è da quella parte, troviamo sempre persone molto avanti negli anni. Allora che il Presidente della Repubblica dia dei premi, riconosca come alfieri alcuni giovani, alcuni ragazzi, a me sembra che sia davvero un importantissimo segnale. Se noi vogliamo dare futuro a questa società, dobbiamo tenere presente che bisogna responsabilizzare queste generazioni. Del resto ci siamo passati tutti, lo dico da prete, fin tanto che eri curato nelle parrocchie, la responsabilità la lasciavi sempre a cadere sulle spalle del parroco, insomma che andasse bene, che andasse male in qualche maniera, sì la tua coscienza ti diceva cosa fare, però poi di fatto lasciavi che fosse il parroco, il pilota che trainava o che conduceva la macchina, il momento in cui ti viene data una responsabilità sulle spalle, capisci la fatica di questa responsabilità, ma diventi anche capace di gestirla con un nuovo senso, con una nuova coscienza, con un nuovo impegno che ti assumi sulle spalle. Tra gli alfieri che il presidente Mattarella ha premiato, un ragazzo che dall'età di 9 anni si è preso cura del papà con l'Alzheimer. Sappiamo oggi che l'Alzheimer che è questa brutta bestia che ti toglie completamente la personalità e che tocca tantissime famiglie ormai, dicevo che questa brutta bestia ormai morde anche persone sempre più giovani e lasciate che ve lo dica io parlando per esperienza personale della mia famiglia. E a questo bambino è capitato a 9 anni di avere un papà con l'Alzheimer, un papà che non risponde più, che non fa più quello che un bambino di 9 anni si aspetterebbe da un papà, le spalle coperte, il papà che comunque interviene sempre per proteggerti. E questo bambino di 9 anni si è preso cura del padre perché poi la mamma era impegnata in tante altre cose e diventando maturo, diventando maturo anzitempo, si è reso conto che l'amore è forse uno dei tratti caratteristici della creatura umana più profondi. La capacità di amare dell'uomo è senza misura e io credo che questo bambino sia qua a ricordarci che oggi il progetto educativo di un genitore oscilla tra due estremi se volete. La capacità di insegnare una creatura ad essere capace di amore, di solidarietà, di sacrificio, di sacrificarsi per gli altri o dall'altra parte un egocentrismo, persone centrate su se stesse per cui tutto il resto del mondo non vive al di fuori dei loro interessi, del loro piacere, del loro comodo. In questa grande forbice sta quello che noi vogliamo fare delle nuove generazioni. Allora questo bambino diremo è un bambino buono, è un bambino particolarmente dotato, speciale, no no, è semplicemente una creatura umana che io penso avrà imparato dalla vita, avrà imparato da suo padre quando suo padre ancora aveva la lucidità di insegnargli che cosa vuol dire responsabilità, prendersi carico degli altri perché alcune cose non si improvvisano. Io credo certamente che noi veniamo al mondo con delle attitudini, con dei carismi come li chiama il Vangelo, ma io credo che poi queste attitudini, questo potenziale umano che ci portiamo dentro, dicevo prima che noi abbiamo una misura sconfinata della capacità di amore e questa capacità ha bisogno di una pedagogia, la pedagogia della testimonianza. Questo bambino in fondo ha portato a compimento quello che questo padre quando era in condizione di fare il padre ha cominciato. Faccio queste riflessioni in prossimità del Natale, questa riflessione la sentirete pochi giorni prima del Natale, dove il Natale è qua a ricordarci un amore che si è fatto prossimo degli altri, perché questa è la verità. Il Natale Gesù è venuto, Gesù verrà alla fine dei tempi, lo incontreremo dopo la nostra morte, ma soprattutto Gesù non abbandona mai l'uomo, non abbandona mai la creatura e il suo esempio è sempre lì davanti a noi per dirci, far Natale è proprio questo, per dirci ma tu che uomo e che donna vuoi diventare. Guardando il suo esempio, quale responsabilità ti vuoi assumere per gli altri, davanti agli altri, che cosa vuoi fare della tua vita perché sia per gli altri. E allora ecco che il Natale diventa davvero un grande atto d'amore con il quale sì il Signore è venuto incontro, ma è venuto a mostrarci come si vive realmente da uomini, da grandi uomini e da grandi donne e il Signore mostrandoci questo ci domanda davvero di diventare a nostra volta, capaci di raccontare a questo mondo che nella forbice dell'amore, quella di un bambino che a nove anni si prende cura del padre malato di Alzheimer e il bambino che diventa un bullo perché è attento solo a se stesso, in questa forbice il Natale ci dice dove vuoi collocarti. Io vi faccio un grande augurio di buon Natale a voi, alle vostre famiglie e che il Signore davvero vi accompagni.